Estra diffida il portale volturacontratto.com. Il sito non è un canale autorizzato per effettuare la voltura delle utenze luce e gas di Estra. A tutti gli effetti è una truffa, di cui il sito sarà chiamato a rispondere. Estra pianta altri 3.000 alberi nel centro Italia. Con l'adesione a Mosaico Verde, Estra anche quest'anno partecipa al progetto di di forestazione urbana che avrà per protagoniste le città di Arezzo, Follonica e Macerata. La transizione ecologica si fa a scuola con le masterclass di Energicamente. Il progetto di Estra a marzo incontra online quattro classi delle superiori su energia circolare, sostenibilità, nuove professioni. Sono quasi 5.000 gli alunni delle scuole primarie di Marche, Toscana e Umbria iscritti quest'anno a Roar Risparmia, Ricicla, Rugisci, il progetto di educazione ambientale di Estra.